Ciao amici di MyFastbook, da oggi 14 aprile 2016 trovate disponibile in tutte le librerie il libro di Luca Pol del Mengo, I pregiudizi di Dio, della Edizioni EO. Un thriller giallo scritto magistralmente da Luca. Ora vi leggo la sinossi, poi leggerò le prime righe del libro, tanto per darvi l'idea di quanto è scritto bene, proprio bello. Ecco la storia. Il commissario capo Andrea Valente ha iniziato a soffrire di epilessia pochi mesi dopo la scomparsa di Alice, la madre di suo figlio. Se i suoi colleghi scoprissero questa cosa finirebbe a mettere i timbri in qualche ministero e così decide di mantenere il segreto sulle sue reali condizioni di salute. Nel frattempo in commissariato arriva l'ispettore Marco Alfieri, un passato burrascoso e un pedigrida raccomandato. I due si detestano da subito, sin dalla prima indagine, che è quella che riguarda il cadavere di una donna deturpato da uno stupro feroce, ritrovato a Mandela il paesino dove abitava. Il clamore dei media porta con sé Francesca Ralli, commissario della squadra mobile di Roma che lì coadiuverà nelle indagini. Le attenzioni degli inquirenti si concentrano sul marito della vittima, un uomo laido ed esecrabile, ma è anche un assassino? I tre dovranno affrontare il loro doloroso passato e le loro debolezze per scendere a patti con la coscienza. Non sempre essere un buon poliziotto è la soluzione migliore. I bravi poliziotti fermano i cattivi e quelli buoni lo fanno nel modo giusto. Queste sono le prime righe del libro, ma ascoltate! Dicono che sono fumoso, contraddittorio, bugiardo. Sono tutti pronti a sputare sentenze su di me, poliziotti, magistrati, giornalisti, criminologi, conduttori televisivi, pure il primo stronzo che cammina per la strada. Perché questo non ce l'ha detto prima? Come ha potuto fare quest'altro? Non erano state queste le sue parole? Ma che ne sanno di come ci si sente di fronte a certe disgrazie? Provassero a fare un giro nelle mie scarpe prima di parlare. Vorrei vedere le loro, di vite, spiate come hanno fatto con la mia, tutti bravi a fare i moralisti fin quando stanno dall'altra parte, ipocriti. E se lo facessero a te? Prova a pensarci. Se ti spogliassero e ti buttassero in piazza nudo, senza poter nascondere niente, ma proprio niente, sei sicuro che gli altri ti troverebbero così attraente? Sii sincero, non hai anche tu qualcosa di cui vergognarti, qualcosa che deve rimanere solo tua. Prima che succedesse questo schifo, io avevo una vita meravigliosa, una villa in collina, un locale che era l'invidia di Tivoli, una Mercedes, due figli fantastici, una moglie che adoravo e che mi amava. E ora mi hanno portato via tutto. Tutto! Io l'ho capito che non gli piaccio a questa gente, ma non per questo mi devono condannare. E tu? Almeno tu mi credi se ti dico che io sono la vittima?